Ciao a tutti ragazzi sono Andri dello staff di Let's Play FIFA www.lettsplayf.it l'importo c'è a Facebook in descrizione se avete un bel impiace e sono qui oggi con il terzo Pink Slips tra cato Let's Play FIFA questa volta in palio addirittura Lucas, Lavezzi e Cavani tre grandi giocatori e il nostro sfidante Giuseppe Di Sabatino l'abbiamo trovato sulla pagina Facebook se volete partecipare anche voi ai nostri Pink Slips non mancate alle estrazioni che facciamo di solito ogni martedì o comunque lo comunichiamo quando le facciamo e per fare questo dovete essere sulla nostra pagina Facebook ovviamente ora lui ci ha invitati e quindi abbiamo andiamo ad accettare questo suo invito il tre giocatori in palio diciamo che la somma del loro costo è sui 70.000 credit quindi un Pink Slips abbastanza importante e non vorrei perderlo la partita come sarà con gli allies, live commentata e niente ci saranno piccole sfumature audio per non far perdere il senso alle mie frasi e via dicendo quindi andiamo a vedere qual è la sua squadra del Piero FC e il Juventino di Piero Tiamo, lì c'è il PSN una bella Premier League Art, David Luiz, Eto'o, Fernandinho, Babiatissimo, Lukaku, Santiglia Zoran sarà faticosa? già lo so speriamo non vada male con l'ultima partita dove abbiamo perso 3-0 e dovrebbero consegnare all'avversario niente di meno che Rossif e niente di meno che Militoif e Balotelli e quindi questa volta non voglio perdere questi 3 giocatori e quindi dobbiamo vincerla concetto semplice Eto'o Lukaku si parte Feleni Vertonghen Cole attenzione Lavezzi in 1 Lavezzi ha saltato Richards vai Bojo Bojo corre atterrato calcio punizione alla limite giusto così va Mutigno a battere Gio Mutigno pala alta sulla traversa prima occasione attenzione Fer Fer rimpaglia non finire Fer per Eto'o Eto'o l'1-2 col Eto'o ma vaffan vip vantaggio suo al primo tiro in porta ha segnato Samuel Eto'o che palle poi tantissimi rimpagli non ci voleva non ci voleva qua vedete l'1-2 Eto'o non perdona 1-0 per lui attenzione Lavezzi Lavezzi il tiro alla distanza Art blocca per invio oh vai prenda Lavezzi Lavezzi parata che fortuna Art si supera contro di me sempre sempre va al Buena la bandierina per un culo tralvataggio sulla linea poi attenzione Marching palla sul fondo ancora Art si supera va al Buena dalla bandierina va al Buena cerca Cavani ha parigiato il Matador 1-1 al 28esimo l'ha messa Cavani grande Matador suo angolo va al Buena parigi meritato oserei dire perché lui ha fatto un solo tiro noi 4 in isolazione in pratica e quindi 1-1 attenzione Cavani Cavani può rubare palla la ruba Richards Cavani Cavani la mette va al Buena parata di Art e per la difesa allontana 7-1 madonna qua Lucas riprende palla Lucas Lucas va sul fondo Lucas la mette per Val Buena che non ci arriva di testa Fernand Ghin poi allontanerà Cavani Cavani per Lavezzi il pallonetto palla sul fondo ancora vicino attenzione Cavani 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 vieni oggi e domani segna sempre Matador Cavani allo scadere del primo tempo 2-1 ha segnato Cavani gran gol gran tiro da fuori con loro battono dai il suo tempo è finito l'arbitro lo devi fischiare cuore con prima palla non fischia ecco quando non devi fischiare fischia quando devi fischiare non fischia che palle 10-7 in porta contro 1 ritardo con attenzione Cavani Cavani la finta Cavani vai Matador no per Tomen poi Lavezzi a Daviluz chiude poi c'è Fallo Fallo batte Gio Mutigno Mutigno per Inculu Inculu per Matuidi Matuidi Filtrante FANNI che parata Arta ancora qua potevamo chiuderla palla rivessa aderana qua attenzione Fer 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 la palla per Fernandinho Fernandinho meno male la parata l'ha presa meno male sarebbe stata una grande beffa casola bandierina Felani un'altra bella bella parata attenzione Fer Fer filtrante per cazorla cazorla no grazie arbitro grazie era fuori gioco vediamo eh sì di pochissimo forse attenzione santi cazorla ancora Remy Remy parata il portiere poi il pallonetto corre la parata e qua l'assedio finale lo stiamo subendo e non poco assedio finale attenzione bandierina per Felani la divisa riesce a allontanare poi valla a rimanere lì Fanny vai vai più lontano possibile no Lucas Fanny attenzione Remy dal fondo cercare la destra di Remy Remy per Eto Eto aiuto no 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 un culo grande qua si rinvio dai Fischia bravo Valbuena tienila lì vai Valbuena bravo ottimo Valbuena per Cavani Cavani parata più o meno poi la difesa sua lontana Fischia meno male finisce qui Cavani Lucas e Levez si sono salvi e niente meno male vittoria 2-1 ora andiamo a vedere le statistiche mi è sembrata abbastanza meritata cioè il secondo tempo alla fine non ho giocato benissimo però il primo era stato un dominio potrebbe finire anche non so 3-0 e nel finale abbiamo rischiato qualcosa ma meno male così no eh sì si apre i crediti si apre l'onore diciamo vediamo le statistiche qua intanto rende anche qualche credito 13-5 si dai la partita è meritata ok quindi anche con questo verso Wingslips è tutto spero che questo video sia piaciuto se è così lasciate un bel mi piace iscrivete al canale in questi giorni ne arriva una review del prossimo Diamo The Week e boh e un saluto da Andri bye bye